Dal 24 al 28 agosto torna a Castiglione della Pescaia la festa del cinema di mare, premio Mauro Mancini e premio Guido Parigi, settima edizione nel segno di Carlo Verdone. Una manifestazione dunque dedicata ai film che raccontano il mare, diretta da Giovanni Veronesi. Tra gli ospiti la giornalista e presidente dell'Accademia del Cinema Italiano, premi Davide Donatello, Piera De Tassis, Margherita Bui e Rocco Papaleo. Ricordiamo che Giovanni Veronesi ha preso il testimone dall'ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020. L'obiettivo era quello di promuovere il cinema di qualità in Maremma, ma anche nello stesso tempo creare un'iniziativa che fosse un po' radicata sul territorio, che avesse a che fare con la cultura del territorio, per questo il tema del mare. Abbiamo abbinato a due importanti premi europei per dei cortometraggi, il premio Mauro Mancini e il premio Guido Parigi. Il festival in questi anni sta crescendo grazie sicuramente alla direzione artistica di un personaggio come Giovanni Veronesi, tante le novità, soprattutto tanti personaggi. In più tante piccole novità che collegano il festival del cinema di mare ad un unico grande fulcro che parte qui dal club evelico, dal Cinema Castello, alla biblioteca di Italo Calvino, alla palestra della scuola alimentare. Il festival noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, ma ora ci crediamo ancora di più, infatti il nostro contributo è aumentato nel corso degli anni e lo consideriamo un evento culturale importante del territorio della Maremma, in quanto è uno dei tre territori che spettano alla Fondazione CR Firenze.